Sono i membri dello staff della cantante che hanno comunicato sui social questa notizia che è sopraggiunta dopo gli ultimi aggiornamenti che riguardano il coronavirus ed interessano al momento le regioni di Lombardia e Veneto. Gli incontri organizzati della cantante erano a Biela e a Genova ed entrambi sono stati annullati. Nella nota diffusa ai social network ecco cosa scrivono. Date le notizie delle ultime ore, è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli install previsti per oggi a Biela e per domani a Genova per motivi precauzionali. Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli install previsti per la prossima settimana. Ovviamente la motivazione che ha spinto ad annullare questi incontri risiede nella necessità di salvaguardare la salute di tutti coloro che avrebbero presenziato agli incontri, evitando quindi di creare delle situazioni di sovraffollamento che possano favorire la possibilità di un eventuale contagio. Per il momento il tourney store dovrebbe continuare in altre città italiane, infatti sono previsti, previa cancellazione, incontri a Lucca, Firenze, Mestre, Palermo, Modica e Rovigo. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.